Amici proseguiamo Lost in Hard Money. Dovevamo fare gli ultimi livelli. Scusa anche per il corso. Kaito? Sì. Poi veniva all'ospedale. Adesso? Sì. Non è migliorata la situazione? No. Sono nella stanza D207. È nell'altro edificio? Sì. Arrivo subito. Fuck! Se ne sta andando! 5 minuti? Ok. Merda! No! Dimmi che... Dimmi che quello che è in testa non è per quello che... Vabbè sì che è malata lo si sapeva. Però cazzo non volevo pensare subito al cancro, cioè... ... 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 vorrei vedere che qui c'è anche l'altra storia da completare si divide in due sperando che almeno l'altra sia un minimo più leggera non chiedo tanto però non mi aspettavo lo spin off di braccialetti rossi ok molto bene quello ne io che accade ok ma io ho premuto A non ho ben chiaro wow non ho ben chiaro aia aia rispondimi kaito sono la madre di aia no non è vero mattina non si è svegliato grazie per tutto quello che hai fatto per lei non mi aspettavo non mi aspettavo non 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 Sì Sì No, non posso saltarlo, è proibito Quindi praticamente questi sogni credo rappresentassero gli stati d'animo di Kaito Credo Ok Ok Ancora ma Stiamo passando le 5 fasi del lutto tutte in una canzone Sto ipotizzando Sto cercando di interpretare ciò che vedo Sto cercando di fare Grazie a tutti. No, l'ho preso. No, forse l'ho missato. Ebbè, certo, perché lo vedo. Che cazzo... Non capisco cosa sto guardando. Non mi è chiarissimo. Non mi è affatto chiarissimo. Ok. E ora come finisce, però... Madonna, sarebbe stato terribile. Non mi è affatto. 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 Passiamo all'altra storia. Ma che cazzo? Ma mi sembra leggermente diverso rispetto a prima. Passapelo non l'ha premesso nello stesso video. È solo che in qualche modo si potessero collegare. Non me ne sarei nemmeno giocate così di fila. Cioè nel senso, avrei giocato di metabolizzare l'altra. Non mi sembra. Non mi sembra. Non mi sembra. Ok. Ho concluso. Niente, quello è mi spaffozzo. Ma mi sento... non dico cosa per il culo però... Questa è un po' se ho quantomeno collegate. Non mi sembra. Non mi sembra. Non mi sembra. Grazie a tutti. Ok. 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 Ok.